ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video con il nuovo electric studios allora oggi questa sarà la primavera challenge che faremo e abbiamo fatto la camilla sul ghiaccio challenge già un anno fa e diciamo che era una prova quella questa è una vera sfida e sarà la sushi challenge allora come funziona noi dovremo ci sfideremo io e lui e dovremo abbiamo ordinato gli stessi piatti e uno di noi dovrà mangiare tutto il piatto vince chi mangia il punto e si mangia tutto prende il punto e vince chi lascia qualcosa che avanza ha finito e non prende il punto poi si vede che ha più punti vince quando inquadriamo il tavolo vediamo che questa è solo il primo abilazione e vediamo se quindi vi lascio con dei saluti salutiamo già mei lorenzo blocco e davide fiozzo e andrei romanzo che sono iscritti e mi servono quindi lasciate commenti se volete altri tipi di challenge e possiamo dare il mia a questa sfida via aspettate un attimo mi vi ho chiesto qual è la vostra strategia intanto allora la mia strategia è andare dal più leggero al più pesante ok ok iniziamo ciao 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 Musica Musica Scusate! 58 da due c'erano le uova e anche il polipo 60 toghi a testa e la morte sopra sta per giungere a 9 electric studios 15 allora la parte 3 avremo una si va sono andato pesante hanno ordinato una tartare la tartare di tonno salmone salmone poi adesso arriverà il cono il coletto e adempura giulio è un po troppo chissà che la challenge qua ci vediamo la parte 2 se non mora